Eccola la quarta giunta in tre anni varata dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Per chi si aspettava novità e cambio di passo, la delusione è legittima. Otto assessori invece di nove, tutti riconfermati, ad esclusione di Silvio Antonini, che di fatto non aveva mai iniziato. La carica di vice sindaco passa da Mirella Marchese a Dodo di Sabatino, che assurge così in pectore a futuro candidato sindaco del centrodestra. Dopo mesi di immobilismo politico spesi a discutere su come rinnovare e ridurre a sé un esecutivo che non veniva più apprezzato e non aveva più i numeri in consiglio comunale, oggi si torna al punto di partenza con gli stessi assessori alle stesse deleghe o quasi. Mirella Marchese, Caterina Provisiero, Franco Fracassa, Roberto Canzio, Eva Guardiani, Mario Cozzi, Valeria Misticoni e Dodo di Sabatino, vice del sindaco Brucchi. Insomma, squadra che vince non si cambia. Nuovo vice sindaco di Teramo, allora come si apre questa giornata? Si apre come si erano chiuse quelle dieci giorni fa, al lavoro, nel mio ufficio, nella problematica quotidiana e nell'attivismo quotidiano che ci deve contraddistinguere, in un momento in cui credo sia opportuno più fare che parlare. Lei ha la delega alla ricostruzione, ripartirà questa ricostruzione? Io sulla ricostruzione ho mosso già alcune perplessità, ovviamente c'è da stimolare gli uffici preposti, in particolare l'USR e poi il governo centrale. Lei teme una sfiducia? Ma guardi, il malpancismo ormai è un mare diffuso, le questioni sono variegate e questo è un mandato molto sofferto, anche molto complesso per come è stato gestato, per quelle che erano probabilmente le aspettative, anche le legittime ritrosie o rivendiche di chi che sia. È verosimile che possano esserci ancora momenti di fibrillazione. Fiducia o sfiducia che sia, lei probabilmente sarà il prossimo candidato sindaco del centro-destra? Ma guardi, questa è una indiscrezione che lascio fare a voi giornalisti, la recepisco per quella che ho davanti a me, tanto lavoro da fare, il resto non conta, il resto conterà e soltanto nel momento in cui qualcuno avrà intenzione eventualmente di designarmi. Io ad oggi faccio quello che posso e lo faccio al meglio, provo a farlo al meglio. Cosa faranno ora i tre dissidenti che hanno tenuto in scacco il sindaco Brucchi per due mesi con la richiesta di un'aggiunta a sei, che comprendesse anche figure tecniche, lo sapremo presto. Per il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Maurizio Verna, questa soluzione di nuova vecchia aggiunta è davvero una barzelletta, mentre per Fabio Berardini, consigliere del Movimento 5 Stelle, semplicemente una vergogna.